E signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti e ben ritrovati qua nell'usuale casino della mia libreria da me, dalla sciarpa dell'Atletico Madrid, dalla sciarpa dell'Inter, dalla sciarpa dell'West Ham e soprattutto dalla mia maglietta vintage degli Iron Maiden. Si vede? Eccola qua. Vabbè, allora, cari signori, allora, io devo fare una brevissima premessa. Mi sono state fatte tante richieste, Mike parla di questo, Mike parla di quello, Mike parla di quell'altro. Allora, c'era di una cosa, io nonostante la massa, la gran massa di libri presente qua dietro, io non è che posso sapere tutto. Non posso sapere tutto sulla Seconda Guerra Mondiale. Un argomento talmente, tanto enorme, talmente tanto titanico, che è impossibile affrontarlo nella sua completezza. Io non posso sapere tutto. Parliamo di una guerra che è andata avanti dal 1 settembre 1939 fino al 2 settembre 1945. Cioè, sei anni giusti. Sono 2.194 giorni di guerra che hanno coinvolto centinaia di milioni di persone con una mole di dati, di fatti, di cose di cui parlare, spaventosa. E io, sinceramente, non posso sapere tutto. Mi hanno chiesto perché non parli della divisione Nordland, della divisione Viking dell'SS, della divisione Charlemagne dell'SS, eccetera, eccetera, eccetera. Io ne parlerei anche volentieri, ma non ho testi specifici in proposito. Ho qualche cosa sulla storia dell'SS, ho cose generali sulla Seconda Guerra Mondiale in cui si parla anche dell'SS, ma non sono ricco. Ecco, questo è il fatto. Cioè, quello che vedete qua dietro, i libri che vedete qua sotto la bandiera giapponese, i libri che vedete qua negli scaffali, me li sono comprati tutti io di tasca mia nel corso degli anni. Non posso comprare tutto, non posso fisicamente riuscire a sapere, a conoscere e a prendere tutto quello che mi piace. Sono povero come la merda, abbiate pazienza. A volte devo scegliere tra le spese della vita di tutti i giorni, la mia passione per i libri e la mia passione per la musica e per la V-Metal. A volte devo fare delle scelte molto dolorose, ma purtroppo inevitabili. Succede quando si è poveri, come me. Ciao poveri, eccomi qua. Vabbè, comunque sia. Allora, questa sera comunque cerco di esaudire ad una richiesta che mi è stata fatta qualche giorno fa di parlare del cosiddetto Mab 1938, il moschetto automatico Beretta modello 1938, che sarebbe questo qua. Il libro è Armi leggeri della Seconda Guerra Mondiale di John Wicks. Quello che vedete sopra è il classico Mab 38A con il copricanna forato. Quello sotto è il Mab 3842, che ha alcune semplificazioni costruttive. Allora, il Mab è indubbiamente una delle migliori armi del suo tipo fabbricate durante la Seconda Guerra Mondiale, che è rimasto in servizio nell'esercito italiano praticamente fino alla fine degli anni Ottanta. Io nella caserma dove prestavo servizio quando ero militare ne avevamo quattro ancora. Non li abbiamo mai usati, non li abbiamo tirati fuori, ma ce n'erano quattro in caserma di questi Mab ancora. Non li abbiamo mai usati, sono sempre rimasti lì, ma c'erano ancora alla metà degli anni Ottanta, nel 1985-1986, ancora dei Mab erano in servizio nell'esercito italiano, anche se più che altro facevano la figura dei soprammobili, detta com'è. Comunque, 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 dicevo, il Mab, un'arma robusta, eccellente, un'arma ben costruita, ben fatta, ben progettata, un'arma che funzionava bene e che era estremamente affidabile sia nei ghiacci, sia nel gelo di Russia, sia nelle sabbie del deserto africano. Era un'arma nata per le esigenze della Polizia dell'Africa Italiana, che, bisogna dire una cosa, era uno dei migliori corpi militari italiani. Era un corpo d'elite, praticamente. Il Mab era stato creato per loro e fu usato con molta soddisfazione. A livello, insomma, stiamo parlando di un'arma, gente, sappiamo che cosa servono le armi. Diciamoci la verità. Però, dicevo, era un'arma ben fatta, ben costruita, ben progettata, un'arma che funzionava bene, un'arma affidabile, che era la cosa veramente importante quando si tratta di un'arma da guerra. Ok? Però c'era il problema. Si trattava anche di un'arma proprio perché ben fatta, ben costruita ed estremamente raffinata a livello tecnico, c'è da dire che, purtroppo, si trattava di un'arma anche pesante ed estremamente costosa. Cioè, basti dire una cosa, che col prezzo di un Mab, cioè col prezzo di un Mab, praticamente si costruivano, si può dire, col prezzo di un Mab, praticamente si costruivano una decina di Sten o di Pepecha. Vedete la differenza tra lo Sten e il Mab? Lo Sten è un'arma rozza, è un'arma economica, sono praticamente un tubo, una molla, il meccanismo di scatto, l'alloggiamento del caricatore, due ferracci piegati, e voilà, ecco fatto un mitra che fornisce al soldato di prima linea un'arma che funziona. Logico, sappiamo tutti che lo Sten aveva qualche problema di inceppamento, ma non era niente di grave, niente che non si potesse risolvere con una buona scrollata o con una botta al caricatore. Di solito funzionava così lo Sten. Ripeto, uno Sten era un'arma semplice, economica, un'arma per la produzione di massa. Il Mab 38 purtroppo no, perché? Con le sue lavorazioni al tornio, con il suo percussore separato, con tutta una serie di accorgimenti tecnici estremamente raffinati e molto ben costruiti, purtroppo costava, e costava anche tanto. E in più c'è anche da dire una cosa, a livello proprio per dire quanto, cioè, quanto fosse disgraziata la conduzione della guerra da parte italiana. Allora, come ho detto prima, il Mab era stato costruito, ideato e destinato alla PAI, alla Polizia dell'Africa Italiana. Cosa successe però? Successe che ci si accorse di avere bisogno, anche l'esercito normale aveva bisogno del Mab. Perché? Perché in Russia c'erano i russi con il Pepe Shah, con il PPSH, che garantiva un volume di fuoco che le nostre pattuglie e che i nostri soldati potevano soltanto sognarsi la notte, detta com'è. Ma non ci fu niente da fare. I Mab rimasero nei magazzini. Perché? Perché il Mab era per la PAI. Fu assegnato, fu assegnato quando fu creata la specialità assaltatori paracadutisti, quando fu fondata la specialità dei paracadutisti italiani, i Mab furono dati ai paracadutisti. Perché? Perché come fai a non dare il Mab, come fai a non dare il mitra ai parà? Cioè con cosa li fai scendere sulle forze nemiche? C'è veramente pugnale fra i denti e bomba a mano? Va bene, ma a un certo punto bisogna che hai un minimo di volume di fuoco. E il Mab era la soluzione migliore per i nostri parà, che difatti lo ebbero in dotazione. Il problema grave è che tantissimi Mab, si parla di almeno 20.000 Mab, rimasero nei magazzini della Beretta a Gardone-Valtrompia perché l'esercito non li voleva distribuire alla truppa. E qui giunge veramente la clamorosa cretineria, chiamiamola col suo nome, dei nostri alti comandi. Con la mentalità badogliana dell'uomo, del muro, del fucile, del cannone, con il risparmio di munizioni che ossessionava i nostri alti comandi, che ossessionava le sfere militari, il Mab non venne mai assegnato, se non in numeri risibili, alla truppa, tra virgolette, normale. Perché? Perché si aveva paura dello spreco di munizioni. Oibo, sediamo il Mab nelle mani dei normali fanti. Quelli sparano, quelli consumano munizioni, quelli consumano cartucce. Mi è stato detto addirittura che qualcuno è andato in guerra in Africa pagandosi di tasca sua il Mab e pagandosi di tasca sua le munizioni con cui sparare. Rendiamoci conto a che cazzo di livello eravamo di straccioneria. Cioè, i russi, ho detto, va bene, parliamo di tutt'altra concezione della guerra, parliamo di tutt'altri numeri, parliamo di tutt'altri impianti produttivi. Ma, santo cielo, i russi distribuirono centinaia di migliaia di PPS, PPSH e PPD alle loro truppe per fornire il maggior volume di fuoco possibile alle truppe di prima linea. Noi in Italia avevamo paura dello spreco di munizioni. Perché? Perché eravamo dei poveracci. Perché eravamo... L'esercito italiano era più povero di me in proporzione, siamo sinceri. Perché avevano veramente paura dello spreco di munizioni, terrorizzati dallo spreco di munizioni. Non diamo i mitra alla truppa perché? Perché se no consumano munizioni. Sembra incredibile ma è così. Ci sono tanti libri che ne parlano. Adesso, molti sono sepolti qua dietro e non ve li vado a tirare neanche fuori. Alcuni libri della Fratelli Melita ne parlano. Ne parlano anche diverse delle riviste che ho qua nella mia libreria. Arrivamo a questo punto ma del resto eravamo il paese che pretendeva di far pagare i dazzi doganali sui bombardieri inglesi abbattuti. Ne abbiamo parlato già una volta e c'è stato veramente da ridere. Ripeto, il Mab rimase la maggior parte della produzione dei Mab rimase nei magazzini di Gardone Valtrompia della Beretta. E che cosa successe? Dopo l'8 settembre? Semplice. Se li presero i tedeschi che ringraziarono sentitamente che si trovarono tra le mani ottime armi difatti i tedeschi ne erano entusiasti e fecero riprendere immediatamente la produzione del Mab alla Beretta. I tedeschi erano entusiasti del nostro Mab della nostra pistola del nostro moschetto automatico perché lo consideravano ripeto un'arma eccellente alla pari dei loro e soprattutto che funzionava bene e che non dava assolutamente problemi che è quello che ci vogliono in un'arma da guerra ma noi praticamente fabbricchiamo decine di migliaia di Mab per cosa? Per i tedeschi che se li portarono via gratis. io dico semplicemente una cosa ma si potrà c'è ma c'è c'è gente c'è rendiamoci conto c'è rendiamoci conto mandiamo i nostri soldati in guerra non gli diamo i mitra non gli diamo i Mab perché? Perché abbiamo paura dello spreco di munizioni perché i nostri soldati con in mano un mitra sparerebbero troppo consumerebbero troppe munizioni chiedetevi perché abbiamo perso gente vabbè comunque sia che vi devo dire la storia è questa qua io ripeto non sono un esperto di armi non conosco molto bene la tecnica delle armi ne ho un'infarinatura lo dico semplicemente questo qui io ho esposto il mio parere personale il Mab ve l'ho detto l'ho anche tenuto in mano quando ho fatto il servizio di leva ve l'ho detto un'arma che ha fatto la sua parte in guerra un'arma tra le migliori del suo tipo nel secondo conflitto mondiale tutto qui quindi io come sempre vi ringrazio per l'attenzione e di nuovo arrivederci come sempre al mio prossimo video buonasera un'arma un'arma un'arma